Sono venuto qui perché eravamo, diciamo, io e Lanciano nella stessa situazione, io mi dovevo rilanciare e Lanciano doveva rilanciarsi, quindi ci stiamo riuscendo entrambi e vogliamo assolutamente continuare così con l'aiuto dei compagni, del mister e della società. La sento ancora di più questa esperienza perché ovviamente mi sento a casa, quindi mi sento ancora più responsabilità addosso, poi il fatto di essere carico e di prendermi le responsabilità e avere una grossa personalità, quello l'ho sempre avuto, però magari qui riesco a mettere ancora quel qualcosa in più. Diciamo che il mio posto ideale sarebbe in un centrocampo a tre davanti alla difesa, però non nascondo che mi sono adattato anche gli altri anni sia da mezzala sia a due, ho fatto addirittura anche il trequartista, però ripeto il mio ruolo congeniale sarebbe davanti alla difesa. All'esterno sembrava più che altro tragica per i punti in classifica, però poi appena arrivato qui, comunque avevo parlato con alcuni compagni già per telefono, mi avevano rassicurato proprio tranquillamente, però una volta arrivato qui ho visto uno spogliatoio proprio che aveva voglia di lottare per raggiungere questa salvezza, non c'è mai stato un minimo di dubbio sul poter raggiungere la salvezza come non abbiamo ancora adesso, non l'abbiamo raggiunta, però sappiamo che continuando a lavorare così possiamo assolutamente arrivarci. Beh, io devo dire che il mister ci trasmette una grandissima voglia di lavorare, ogni giorno, quotidianamente, non solo al sabato, e poi ci trasmette anche una grande serenità e una grande consapevolezza dei nostri mezzi, che penso sia quello di cui avevamo bisogno nel momento in cui ci trovavamo, perché la classifica era deficitaria e dovevamo solo cercare la tranquillità migliore per esprimerci, perché penso che le qualità dei giocatori sono indubbie.